Negli ultimi giorni si è molto vivacizzato il dibattito sulle aree industriali di Nocere Inferiore, Fosso Imperatore e Casarzano. Ha tenuto banco soprattutto la convenzione tra l'amministrazione comunale e Coifim, il consorzio che riunisce gli imprenditori dell'area di Fosso Imperatore. Da anni si discute sul rinnovo, ma sino ad oggi resta una situazione di stallo, soprattutto per un credito che il Comune vanterebbe dal consorzio. Per il consigliere comunale di minoranza, Tony Alanzetta, è necessario avere buonsenso. Bisogna adoperare un po' di buonsenso e magari sollecitare le imprese, il Coifim, il consorzio, a farsi parte diligente per eventualmente farsi carico di qualche opera che potrebbe insomma avere lo stesso importo di questa debitoria o quantomeno un importo approssimativamente vicino e in modo salomonicamente di trovare una soluzione. Su Casarzano i riflettori si sono accesi per la notizia del completamento della gara di appalto per realizzare le opere di urbanizzazione e consentire alle aziende di poter operare. La spesa prevista è di 2 milioni di euro, soldi recuperati dal Comune attraverso un mutuo. Si salutano questi lavori come la soluzione. In realtà soluzioni non sono. Perché? Per una serie di problemi. Innanzitutto l'opera complessiva è di 3 milioni e mezzo. Quindi comunque manca un altro milione e mezzo che dovrebbero essere le risorse che gli imprenditori devono mettere in differenza all'individuazione, all'assegnazione dei lotti. Ma gli imprenditori devono sapere, perché cosa che si preferisce non dire è che dovranno pagare anche i lavori sui 2 milioni. Quindi non è il Comune che fa un'opera pubblica, sono gli imprenditori che pagheranno quell'opera pubblica. E quindi significa che il Comune fa un'anticipazione. E torniamo alla questione dell'utilizzo dei soldi dei cittadini.